La grande sintesi attraverso Pietro Ubaldi, edizioni Ergo, 1952. Nell'affrontare il problema della disintegrazione atomica tenete presente un altro fatto. Nell'assalto che voi date all'intimo equilibrio del sistema atomico per alterarlo, voi vi trovate di fronte ad una individuazione di materia, fortemente stabilizzata in sconfinati periodi di evoluzione. Voi vivete in un punto relativamente vecchio dell'universo e la vostra Terra rappresenta il periodo gamma non all'inizio, nel suo primo condensarsi, ancora vicino a beta, ma alla fine, cioè all'inizio della sua fase opposta, la disgregazione, il ritorno a beta. Vi trovate così di fronte ad una materia che oppone il massimo di resistenza, perché ha il suo massimo grado di stabilità e di coesione. Gli incommensurabili periodi di tempo che l'hanno portata alla sua presente individuazione atomica rappresentano una spinta immensa, una invincibile volontà di continuare ad esistere nella forma acquisita per un principio universale di inerzia che nella legge impone la continuazione delle traiettorie iniziate e che è ciò che garantisce stabilità alle forme e dai fenomeni. Pensate che voi volete violare una individuazione della legge che per individuazioni inconfondibili che riassumono la volontà più energica e decisa di non lasciarsi alterare, essa sempre si manifesta. Per riuscire seguite, non violate la legge. Vi sarà facile il cammino secondando la corrente. E il lato per cui la legge nella vostra fase di evoluzione vi apre l'accesso è il passaggio gamma e non quello beta gamma. In altri termini, il problema della disintegrazione atomica è per voi solubile non nelle forme a voi lontane e meno accessibili della condensazione delle nebulose quanto in quelle della disintegrazione delle sostanze radioattive. I raggi alfa e i raggi beta e tutti i fenomeni riguardanti il radio e i corpi radioattivi li avete già spontaneamente sott'occhio. Lo studio che faremo della serie stechiogenetica vi darà un concetto più esatto di tutto ciò. Grazie a tutti.